Salvatore Bullo Il Campopasso riprende la settimana tipo in vista del San Nicolò. È il caso di dire finalmente. Una settimana fatta di allenamento programmato e coordinato prima della partita della domenica non avveniva dalla settimana precedente alla sosta natalizia. Bullo fa la conta degli indisponibili per domenica. Sarà certamente outpani per il quale la diagnosi potrebbe parlare di stiramento. Si attende solo che l'ecografia confermi questa ipotesi più che concreta. Ricordiamo che il giocatore è stato vittima di un infortunio del tutto casuale occorso a inizio secondo tempo di Amiternina. Per il Campopasso rimane l'amarezza di aver sciupato la più ghiotta delle occasioni. Con un sol colpo la squadra di Bullo, se avesse vinto, avrebbero sicchiato due punti alle quattro che la precedono. Un pareggio tutto sommato deludente, quello di Scoppito, proprio perché si trattava di una di quelle partite da vincere a tutti i costi e in qualsiasi modo, al di là della prestazione offerta da contraltare a questo discorso, c'è pure da rimarcare che ha scoppito il Campopasso, ha giocato la terza partita in una settimana. Un sovraccarico di lavoro senza dubbio. A ciò si aggiunga che il tris di partite è avvenuto sotto l'egida di Bullo, tecnico neo-arrivato, i cui nuovi dettami tattici i giocatori stanno iniziando a metabolizzare. La serie di Girone F porta a delle significative considerazioni che ineriscono la capolista maceratese. Delle 167 squadre di quarta serie, la capolista del Girone F è l'unica a non aver mai perso un'imbattibilità custodita benissimo pure a Fano, dove chi ha rischiato di più di vincere è stata proprio la squadra allenata da Maggi. I numeri pro maceratese non terminano qui. I marchigiani detengono pure la migliore difesa di tutte le attuali prime in classifica, appena 12 i gol al passivo. Insomma, per la maceratese la strada verso la Lega Pro sembra davvero in discesa. Fano e tutte le altre a seguire non moleranno di certo finché c'è vita, ma già domenica quel maceratese civitanovese potrà dirci qualcosa di più. Il San Nicolò, prossimo avversario del Campobasso a Selva Piana, viene dal pareggio a Iesi e stazione in una situazione di classifica piuttosto tranquilla. 27 punti sono un bottino senza infamia e senza lode, cioè distante 7 punti dai play-out, altre tanti dai play-off. Dai numeri significa che gli uomini di Epifani sono la classica squadra di centro classifica. Al centrocampista Marinucci il commento sulla partita pareggiata ha scoppito. Finisce 1-1. Innanzitutto ti chiedo se è un risultato giusto, a tuo avviso, quello tramite Ernina e Campobasso. Io credo che per quanto riguarda le azioni di gioco e le occasioni avute, io credo che il Campobasso oggi abbia molto da recriminare. purtroppo anche oggi siamo partiti sotto di un gol e anche oggi è stata una gara che ci siamo trovati a dover rincorrere. Siamo stati bravi a rimetterla sui binari giusti e alla fine potiamo vincere, secondo il mio avviso. Tra le occasioni una palla tua al novantesimo, giù di lì, deviata in calcio d'angolo praticamente con la porta spalancata. Sì, respinta del portiere, c'erano un gruppo, due o tre persone davanti, ho provato ad angolarla, è stato bravo anche il difensore a deviarla in angolo, purtroppo perché poteva essere il gol della vittoria. Per il resto questo pareggio che non credo possa essere accolto con grande soddisfazione dall'ambiente e cambia qualcosa rispetto a quanto si è detto in sede di conferenza stampa di presentazione del nuovo allenatore? Io penso che il Campobasso stia facendo un ottimo campionato dall'inizio. È normale che, visto l'organico, visto il blasone della piazza, è giusto che ci sono ambizioni sempre maggiori e di vertice. Noi di partita in partita dobbiamo cercare di ottenere il massimo e poi a maggio tireremo le somme, però da Alcantale, infatti, da questo punto di vista noi dobbiamo cercare di sfruttare al meglio e di arrivare il più su possibile. A proposito del viaggio della nostra troupe per raggiungere Scoppito, frazione dell'Aquila, colpita nel 2009 dal terremoto, abbiamo realizzato una clip. Tra le nuvole e i sassi passano i sogni di tutti, Passa il sole ogni giorno senza mai tardare Dove sarò domani? Dove sarò? Tra le nuvole e il mare c'è una stazione di posta Uno straccio di stella messa lì a consolare Sul sentiero infinito del maestrale Allora, Francesco, gestore di un bar del centro storico di L'Aquila, c'è scritto lì, chiuso dal 6 aprile 2009, si riapre l'8 dicembre, puntini puntini e poi un punto interrogativo, allora come procede la ricostruzione? Ma la ricostruzione procede molto lentamente, ci sono dei cantieri, diciamo la periferia secondo me tra un paio d'anni è fatta e adesso qui noi siamo in centro storico, bisognerà vedere quando partiranno altri cantieri, ci sono un centinaio di cantieri ma consigliere edifici sono circa 1.200, quindi è circa il 10% della ricostruzione, adesso pare che sia un po' fermata, bisogna vedere se arriveranno i soldi o no. Ecco appunto le risorse, noi vediamo proprio il suo bar evidentemente danneggiato dal terremoto di quella terribile notte, ci sono delle grepe che possiamo vedere grazie al nostro operatore e per ora rimane così in attesa appunto delle risorse per riparare queste grepe, insomma per rifare il bar Sì, e poi bisogna, oltre a risorse bisogna costituire consorzi o aggregati, diventano una sorta di supercondomini, quindi mettere d'accordo tutti i proprietari non è una cosa facile Speriamo presto insomma che possano partire i lavori Grazie in bocca al lupo per l'Aquila che ha battuto l'Ascoli 3 a 0, c'erano 4.000 persone, un bel pubblico al Fattori Sì, un bel risultato, speriamo insomma che va in serie B l'Aquila Dove sarò più domani? Che ne sarà dei miei sogni infranti e dei miei piani? Dove sarò più domani? Devo rialzarmi, tendimi le mani, tendimi le mani Via delle navi, vela del temporale E qualche volta si vede una luce di prua Qualcuno grida domani Buongiorno, allora come procede questa ricostruzione nel centro storico? Beh, buono, appetitamente, almeno per una parte del centro storico è partita Anche se sembrerebbe a rilento Beh, no, vabbè, oggi è domenica e i cantieri stanno chiusi Poi a rilento, poi il problema non è che sono molto positiva la cosa Il pensiero mio è abbastanza negativo Però diciamo che si sono persi due o tre anni E adesso invece è partita abbastanza velocemente la ricostruzione Soltanto che è talmente grande che non è facile E' di nuovo la vita che sembra fatta per te E comincia domani Ma domani, domani, domani lo so Lo sai che si passa e è possibile E di nuovo la vita che sembra fatta per te E comincia domani Domani è già qui, domani è già qui Domani è già qui, domani è già qui E lo scontro diretto con il Casta del Fedardo Granata da oggi con la testa a Recanati Saltarin, match winner di domenica Ai nostri microfoni Saltarin, un gran gol il tuo Ma che vale molto per l'Agnone quest'oggi Sì, un bel gol Ma soprattutto una bella vittoria per la squadra Mi interessa soprattutto la salvezza E poi vengo io, insomma Quindi sono contento per la vittoria e più per il gol Ecco Saltarin, oggi non avete proprio sbagliato nulla Una vittoria, il cuore oltre l'ostacolo E l'Agnone che vuole vedere mister Donatelli Sì, oggi era una partita o dentro o fuori Se oggi avessimo perso sarebbe stata veramente molto dura Per fortuna è andata bene Abbiamo avuto i tre punti E adesso speriamo di dare seguito a questa vittoria E sperare di proseguire insomma bene Ci voleva la vittoria arrivata Anche perché adesso c'è un calentario favorevole C'è fuori casa con la Recanadese Poi due partite in casa con Giulianova e Celano Insomma scontri diretti E l'Agnone qui deve veramente continuare Con i risultati positivi Sì, sicuramente adesso abbiamo un filotto di partite Che ci potrebbero consentire di rialzarci dalla classifica E quindi sperare di superare le squadre come Proprio oggi il Castelfidardo Che adesso abbiamo a quattro punti sopra E sperare di continuare così Battendo il punto Giulianova, Celano e Recanadese Ecco Sartarin, con la coppia Cantoro-Ibe Tu insomma ti inserisci benissimo negli spazi Che questi due giocatori creano lungo tutta la linea offensiva Sì, sicuramente avere due attaccanti di paese come loro Per me è un bene Perché se prima avevo dei giocatori su di me Adesso sono su di loro E quindi ho più libertà di inserirmi con facilità senza l'uomo Il Termoli a Reduce da due K.O. consecutivi Domenica Alcannarsa Qualche recriminazione arbitrale per i molisani Che hanno reclamato due rigori Poco prima del gol Anche del che poi ha segnato l'incontro Nel post-gara abbiamo intervistato Romano Centrocampista giallorosso Romano centrocampista del Termoli Credo il migliore in campo L'ha detto anche l'allenatore più di qualcuno Hai dettato i tempi lì Hai fatto il muro Hai cercato di far ripartire questa squadra Peccato e rabbia per questa sconfitta Il Matelica però si è dimostrato una signora squadra Sì, anche se oggi devo dire la verità Sono un campo difficile Perché far girare la squadra su questo campo Era molto difficile Poi il Matelica comunque si è dimostrato È venuto qui a giocarsi la partita Magari di solito fuori casa Non vengono a fare la partita Mentre il Matelica così l'ha fatto È stata una sconfitta amare Perché noi questi tre punti erano come loro in questo momento Però eravate partiti bene Credo col piglio giusto Quel gol vi ha un po' tagliato le gambe Perché vi siete dovuti un po' riorganizzare Sì, per fortuna Noi abbiamo la mentalità giusta Anche mercoledì scorso abbiamo perso una partita Però noi comunque La mentalità c'è sempre La voglia di mettersi in gioco E di fare bene Purtroppo il calcio è questo Un episodio Allora hanno fatto gol Poi credo un'altra azione Poi comunque non c'è stata Altre azioni da gol per loro Due rigori reclamati Uno credo che sia abbastanza vistoso Sì, quello su Luca Cremone Io penso che lì Anzi addirittura l'ha monito Lì era rigore netto Adesso cambia poco Dovete C'è questa partita difficile Domenica a Castelfidardo Uno scontro diretto Per evitare la retrocessione In un momento importante Sì, ogni partita è importante Ora dobbiamo ripartire da martedì Sempre colpiglio giusto E metterci tutto nei stessi Perché ogni partita Ripeto, è importante Per la chiave salvezza Nuoto domani pomeriggio Presso il centro M2 Di Campo di Pietra In programma Un'ultima riunione Tra il presidente dell'M2 Amelia Mascioli E il presidente della Termoli Nuoto Giuseppe Lemme Per definire la collaborazione Nata tra i due club Per riproporre in Molise Il meeting Molise Nuoto Organizzato per anni Dalla società adriatica Sospeso nelle ultime edizioni Per la mancanza di una struttura Il 7 e l'8 febbraio La chermessa Tornerà in Molise Con la ventottesima edizione E verrà ospitata Presso la struttura Del centro M2 Di Campo di Pietra Calcio a 5 di serie B Per l'Isernia Un pareggio Che brucia nel derby Con il Venafro Arrivato a 40 secondi Dalla fine E che mantiene Bianco Celesti A meno 2 Dal quinto posto Nella post gara Abbiamo sentito Mario Ionata Mario Ionata Presidente dell'Isernia Calcio a 5 Ecco al di là di questi brutti episodi Che poi hanno caratterizzato In qualche modo la gara Che derby è stato? Ma credo sia stata una partita Fantastica Emozionante Ci tengo a ringraziare Il pubblico eserino Che risponde sempre Oggi penso c'erano 800 1000 persone Palasport Stragolmo È stato un derby bellissimo Devo dire All'andata siamo rimasti Davvero male Perché l'abbiamo giocato male Il Venafro ha meritato di vincere Oggi permettetemi Se c'era una squadra Che doveva vincere Questa era l'Isernia Abbiamo giocato Tutti e due i tempi Il Venafro Sì Squadra tosta Si difende bene Però ha fatto pochino In avanti Oggi veramente È una grandissima Isernia Purtroppo paghiamo errori Sotto porta clamorosi Ma questa è una cosa Che ci portiamo avanti da tempo Non riusciamo a concretizzare Tutte le occasioni Che costruiamo Quindi il Venafro Secondo te È un punto di esperienza Questo conquistato Al Palasport Ma il Venafro Ricordiamoci È anche difeso 5 contro 4 2 minuti Non ha preso gol Le squadre toste Riescono a pareggiare Anche queste partite Ripeto Ai punti Ha vinto oggi l'Isernia Però questa non è box Questo è calcio a 5 Giustamente Un punto per uno Merito al Venafro Ma devo fare un plauso Ai miei ragazzi Devo fare un plauso A mister Cataneo Ha preparato benissimo La partita Grande ritmo Grande giocate Purtroppo sotto porta Paghiamo sempre Dazio Per il Venafro Un punto che permette Alla squadra di Scarpitti Di consolidare il quarto posto Ne abbiamo parlato Proprio con il tecnico Mister Fausto Scarpitti Allora un commento a caldo Su questo derby Un commento molto a caldo Io penso che Il risultato è giusto Perché il primo tempo L'abbiamo concluso Meritatamente in vantaggio Mentre nella ripresa L'Isernia ci ha messo In grossa difficoltà Purtroppo abbiamo dovuto Rinunciare Per tutta la partita Antonio Russo Per una comitata in faccia E questo sinceramente Ha un po' condizionato Purtroppo è caduta dell'acqua Si scivolava Quindi anche lo spettacolo Secondo me Ha perso qualcosa Alla fine della fiera Credo che il risultato Sia giusto È stato penso divertente Per il pubblico Più di questo Non ho da dire Che avversario è stato Quest'Isernia? L'Isernia Secondo me Il primo tempo Se l'è giocato Diciamo quasi Alla pari con noi Mentre nella ripresa Ci ha messo maggiormente In difficoltà È stata una buona squadra Ha creato Parecchie occasioni Però dall'altra parte Abbiamo fallito Dei contropiede Che gridano vendetta Perché comunque Ci siamo trovati Parecchie volte Davanti da Lauro E Francesco Come nel suo repertorio È stato fantastico Mi dispiace soltanto Per gli episodi Di inciviltà Che ci sono stati Da parte di alcuni Il pubblico di Sernia È un pubblico correttissimo Io ho allenato qui Per dieci anni E il pubblico di Sernia È corretto Purtroppo c'è qualche Passami il termine Imbecille Che fa cose assurde E purtroppo anche Un paio di loro giocatori Purtroppo non sanno scindere L'essere giocatori All'essere tifosi E questa cosa Ha penalizzato in campo Per quanto riguarda Il vostro cammino Di Coppa Italia Il cammino di Coppa Italia In questo momento Siamo in attesa Di sapere se giocheremo Col Ciampino O con Loreto Prudino Perché c'è un ricorso In atto nel girone D Quindi non sappiamo ancora Quale sarà il nostro avversario Doviamo giocare sabato Purtroppo non sarà così Ci toccherà fare Due turni infrasettimanali Però non fa niente Avremo modo per recuperare Le forze E allenarci al meglio Per questi impegni A proposito della telecronaca Tra Iserni e Venafro Andrà in onda oggi Alle 15.30 Su Tele Molise Sport Canale 112 Alle 21 Su Tele Molise 2 Canale 12 Dopo domani È in programma La seconda giornata Dello sport Organizzata dal delegato Allo sport Della regione Molise Carmelo Parpiglia La manifestazione Ha un programma intenso Che prenderà il via La mattina Nelle scuole Con l'incontro Dei ragazzi Con Gloria Marinelli E Andrea Brandimarte Quest'anno i testimoni Alle deccezioni Sono Sara Simeoni E Pasquale Gravina Nel pomeriggio Alle 16.30 Presso l'Exgille In programma Il convegno Il talento sportivo E i fattori ambientali Interverranno Giovanni Malagò Presidente del CONI Luca Pancalli Presidente del CIP I due testimoni Alle Simeoni E Gravina Moderatore anche quest'anno Giacomo Crosa A seguire intorno alle 19 Le premiazioni Dei migliori atleti Del 2014 Condotte sempre Da Giacomo Crosa Calcio regionale Domani Giornata di recuperi In eccellenza È in programma Vasto Girardi Gioventù Dauna Formazione in campo Alle 14.30 In promozione Due gare Della prima di ritorno Campo di Pietra Real San Martino E Ripalimosani Castel Mauro Fischio d'inizio Per entrambe Alle 15.00 A proposito Della Gioventù Dauna La formazione pugliese Domani Ha in programma Un match point Per riconquistare La vetta Della classifica Il presidente Lauriola E il portiere Di Cambia Ai nostri microfoni Presidente Lauriola Sono io di tre punti Tre punti sofferti È stata una battaglia Contro una bella squadra Come il Treppini L'importante per voi Era vincere Per rimanere attaccati All'Iserno Certo Era una partita difficile Perché veniamo da un periodo Non Di forma Abbiamo ancora da recuperare Tanta gente Quindi Poi una squadra Avversaria Che è Una delle migliori Che ho visto io In questo torneo Molto Impostata bene Equilibrata E che ci ha messo Veramente in difficoltà Però Quello che contava oggi Era il risultato Per Per rimanere Attaccati All'Isernia E quindi Prendiamo per buono Almeno il risultato Quanto vi brucia L'eliminazione in Coppa Italia Con Riccio? Certo Volevamo Era il sogno mio E di alcuni miei collaboratori Che lo inseguiamo Da tanti anni È svanito Però devo dire una cosa Che ho fatto i complimenti Non direttamente Al Riccio Ma li ho fatti Ai miei amici Ho fatto agli sportivi Ho detto che Quei ragazzi Se la sono sudata E secondo me L'hanno meritata La finale E queste sono Bellissime parole Le sue Adesso per voi Inizia un tour de forze Incredibile Ci sarà la partita di mercoledì Col Vasto Girardi Però penso che Forse la vostra testa In questo momento È recuperare il prima possibile Tutti gli acciaccati Perché avete più infortunati Che giocatori disponibili È certo È certo Tra squalifiche Ed infortuni Ogni domenica Ci mancano Quattro Cinque elementi Quindi Io sfido Pure le grandi Di Serie A A giocare Nelle condizioni Che giochiamo noi Però Fino ad oggi Stiamo portando avanti Il discorso Con tanti sacrifici Proprio con l'impegno Di queste seconde linee Che stanno Veramente portando avanti Il nome della Giocci Safero Di Canti Allora Tre punti pesantissimi Contro un avversario Tosto come il Treppini È stata una partita Di quella proprio Sofferta Sì Effettivamente Non era facile Lo sapevamo oggi Che era veramente difficile Condizioni anche climatiche Non ci hanno aiutato Perché comunque Avevamo delle assenze Importanti Come Paris Lo Seto Schirone Gente che era Squalificata Infortunata Però comunque Lo spirito di squadra E di gruppo È venuto fuori Anche magari La tecnica personale Di qualcuno Come Pugliese Il gol che ha fatto Senti Sono stati tre punti Importanti Adesso non c'è neanche tempo Per riposarvi Perché andate A Vasto Girardi Dove Neve permettendo Insomma Troverete un avversario Molto molto tosto Sì Io l'andata non c'ero Perché sono venuto qui Un mese e mezzo fa Però mi hanno detto Che comunque Non sarà facile Ma credo Che in ogni campionato Affronti Il giugno di ritorno È un altro campionato A parte Però comunque Noi Abbiamo l'obiettivo Quello di Metterci su di nuovo All'Iserni Quindi andremo lì Ovviamente per i tre punti Senti Quanto brucia L'eliminazione in Coppa Italia Sì Brucia A me più di tutti Perché comunque Non l'ho potuta neanche giocare Perché è stato venuto Che mi portava Una squalifica Purtroppo Sì Brucia Era un altro obiettivo Della società Però Ora Archiviamo la Coppa Italia E pensiamo solo al campionato L'ultima considerazione Si è arrivato da poco Qui in questa squadra Che idea di se hai fatto Soprattutto di questo campionato Perché Si parla sempre Eccellenza Morisane Come un campionato Magari un po' più cuscinetto Rispetto a quello abruzzese Campano-Pugliese Tu che idea ti sei fatto? Non è vero Non è vero Perché io Ho fatto la prima partita Sesto campano Già ho iniziato a vedere un po' Che Gli ambienti Ho iniziato a vedere Che comunque Non è così come parla Non l'ho mai fatto Il campionato a Molisano E quindi Dobbiamo portare rispetto Anche nei confronti Di questo campionato Qui L'eccellenza E credo che comunque È alla pari un po' Di tutti gli altri Magari In Puglia Ci sono nomi più importanti Forse Però qui Magari Nomi meno conosciuti Che comunque Hanno il loro valore Andrei in onda oggi La telecronaca Tra Gioventù Dauna E Treppini Sporting Matese Alle 17 Su Tele Molise 2 Canale 12 Alle 20 e 30 Su Tele Molise Sport Canale 112 Anche il campo di pietra Domani si gioca La vetta della classifica Nel recupero Con il Real San Martino Tornando al match Vinto Con la Life Civico E Cefaratti Enzo Civico Mistere del campo di pietra Primo tempo male Secondo tempo Avete ribaltato la situazione Vittoria alla fine Possiamo dire anche meritata Sì Primo tempo Non è che abbiamo giocato male Non abbiamo creato tanto Però Comunque siamo stati ordinati In campo E loro non è che ci abbiano creato Più di qualche occasione Il gol loro è venuto Su un'infortunio Del portiere nostro Quindi diciamo Che è stato un primo tempo Più giocato a centrocampo Da tutte e due le squadre L'espulsione vi ha anche Un po' agevolato Possiamo dire Sì La Life È una squadra Che mi ha impressionato Sul piano del gioco È molto forte Quindi Giocare in 11 contro 10 Sicuramente è stato Un vantaggio per noi In molti cambi Non si è giocato Però qui La vetta sintetica Vi ha favorito La partita Si è giocata tranquillamente Sì Per fortuna abbiamo giocato Perché già abbiamo visto Domenica scorsa a Castelmauro Che venivamo da 20-25 giorni Senza Senza giocare partite Quindi Per noi è stato un bene Giocare Anche perché abbiamo Già un recupero mercoledì Poi giocheremo sabato Quindi sarà Una settimana molto intensa Non rigiocare Significava Rigiocare mercoledì prossimo Quindi Si faceva veramente dura Antonello Cifaratti Attaccante del campo di Pietra Il tuo gol Alla fine ha aperto La partita Vi ha consentito di vincere Questa partita Che per voi è Infornamentale Sì Questa era una partita Al vertice Uno scontro Uno scontro diretto Sapevamo della forza Della squadra avversaria Purtroppo siamo andati Subito sotto Con un tiro Un po' Beffardo Visto il campo Che oggi Era davvero In condizioni Pesanti Viste Vista la pioggia Che è caduta Però Nel secondo tempo Siamo usciti fuori Abbiamo giocato Più palla a terra E diciamo Siamo riusciti a portare a casa Questi tre punti Importantissimi Nel primo tempo Siete andati sotto Poi l'espulsione Vi ha anche un po' Agevolato Sì sicuramente L'espulsione Ci ha agevolato E abbiamo Ci ha consentito Questo Di gestire Meglio La partita Nel secondo tempo Ma comunque Voglio fare Davvero i complimenti Alla squadra Che Davvero ha giocato Alla grande Il secondo tempo Rimanete nelle zone Altissime Della classifica Adesso Vi aspetto Un periodo Molto molto duro Ci sono molti impegni Ravvicinati In primis Recupero col San Martino Poi avrete Sabato La trasferta Sì Purtroppo Sapevamo Che questi Recuperi Ora Praticamente Non ci consentono Di allenarci Nel modo migliore Mercoledì Sarà una partita Durissima Con il San Martino Anche Loro Sono nelle zone Nelle zone alte Di questa classifica Che è molto corta E quindi Un altro scontro diretto Speriamo Di vincere Anche contro di loro E quindi Di mantenere La testa della classifica Il più possibile Atletica sabato A Termoli In programma La Women in Run Organizzata Dalla Runners Termoli Unico obbligo Per poter Prendere parte Alla gara Indossare Una maglietta rossa Senza Naturalmente Nessun obbligo Di quote Di iscrizione Per poter avere La pettorina La partenza In programma Alle nove Di sabato Da piazza Sant'Antonio Lo scopo Dell'evento È combattere La violenza Sulle donne Basket C regionale L'NBC È reduce Dal K.O. Con l'Aquilano Gara pregiudicata Nel terzo quarto A fine gara Il commento Del coach Mimmo Sabatelli Coach dell'NBC Sconfitta Che fa male Forse ti aspettavi Un po' di più Da questa partita No Fa male Dispiace Perché è normale Che dispiace Però ripeto Noi Noi dobbiamo Essere Tranquilli Quando le cose Vanno male Nello stesso modo Tranquilli Quando le cose Vanno bene Quindi Come ho detto Che non ci dovevamo Esaltare Dopo la vittoria Di domenica scorsa Cocchietti Così non dico Che ci dobbiamo Abbattere oggi Contro una sconfitta Contro l'Aquila Dobbiamo essere sereni E lavorare I gruppi giovani Sono così Quindi Dobbiamo stare sereni Dobbiamo vedere Le cose che oggi Non hanno funzionato Abbiamo anche oggi Giocato abbastanza Sprazzi E nel momento In cui abbiamo Giocato a Sprazzi Abbiamo giocato Anche abbastanza bene Poi è normale Che paghiamo Un po' di inesperienza Paghiamo un po' di nervosismo Quindi Però dai In linea di massima Era la partita Che pensavo Doveva essere Vi mancava anche Altieri Che è uno dei più Diciamo dotati Tecnicamente Da parte vostra Da quello che si vede Dalla panchina E dalla tribuna Ve la potete giocare Quando il ponteggio Rimane basso Noi abbiamo pochi punti Nelle mani Quindi è normale Che oggi abbiamo raggiunto Il nostro standard 60 punti Per poter vincere Le partite Dobbiamo fare in modo Che gli altri Non vadano oltre 60-65 punti È normale Che oggi Il punteggio Ci dice Che loro hanno segnato Molto di più Quindi era Era difficilissima Poterla vincere Normale che poi L'assenza di Vincenzo Dà anche Un po' più di insicurezza Alla squadra Perché comunque È una persona Alla quale noi ci affidiamo Tanto nei momenti cruciali Però questo serve A far crescere Un po' più di inserire Il giro è un po' più di inserire Il trivento Carovilli E San Pietro Avellana 23 Oratino E Torella 20 Andiamo al girone C Rinviate Limosano Ripabottoni 4-2 Guardialfiera Lesina 1-0 Rinviata Montagano Petrella Castellino Rocca Vivara Moncciufoni Calena Matrice 5-2 Riposato Isola Croata In vetta a questo girone Troviamo Limosano 28 Lesina 27 Isola Croata Ripabottoni 20 Montagano Petrella 18 Bene È tutto per questa edizione del nostro TG Sport Buon pomeriggio